Il menisco Buongiorno professor Ferracini, oggi parliamo dei menischi del ginocchio. Cos'è il menisco? Come funziona? Il menisco è una struttura a sé che sta all'interno del ginocchio, ce ne sono due per ogni ginocchio, il mediale e il laterale, e sono ancorate alla zona esterna della capsula articolare e sono ancorate anche al davanti e all'indietro sulla superficie della tibia. Quindi vengono trazionate durante il movimento e permettono un assorbimento dei carichi e una stabilizzazione del ginocchio durante il suo movimento. I menischi sono delle strutture povere dal punto di vista biologico, hanno poche cellule e tendono a guarire con difficoltà. Ne guarisce più facilmente la zona esterna, verso la capsula articolare, piuttosto che quella interna, che quando viene lesionata non guarisce più. E quali sono le patologie che colpiscono il menisco? Il menisco viene sottoposto a degli sforzi ripetuti durante la vita dell'individuo, quindi il menisco tende ad usurarsi, a slaminarsi nella sua trazione continua che avviene con il movimento di flesso estensione e quindi tutte quelle patologie degenerative che sono causate da un indebolimento strutturale sono considerate appunto lesioni tipo degenerativo. Poi ci sono le lesioni acute, quelle che avvengono a causa di un particolare movimento durante l'attività sportiva e quelle sono delle lesioni che avvengono immediatamente, causano dolore acuto e un blocco articolare del ginocchio stesso. Che cosa vuol dire se noi leggiamo sul referto della risonanza estrusione meniscale? E come si cura? L'estrusione meniscale è una patologia che è stata già considerata negli anni recenti e che è causata dalle lesioni del piede del menisco, cioè dall'inizio e dalla fine nelle zone di ancoraggio sulla tibia. Quando il ginocchio si carica sul menisco, il menisco viene trazionato perché ha un ancoraggio prossimale distale. Quando uno dei due ancoraggi si perde, il menisco viene spinto fuori dal carico e si sposta verso l'esterno dell'articolazione. Questo spostamento fa sì che il menisco non riesca più né a assorbire i carichi né a stabilizzare il ginocchio stesso. Ma quali sono i sintomi della lesione meniscale acuta e di quella degenerativa? I sintomi acuti intanto sono legati all'infiammazione acuta, al dolore, al sanguinamento della zona meniscale vascolarizzata, la zona più esterna del menisco, quella vicina alla capsula articolare. Lì avviene il sanguinamento, il sanguinamento causa di per sé un fenomeno infiammatorio e una parte della sintomatologia però è una sintomatologia prevalentemente meccanica, cioè il blocco dell'articolazione dovuto alla presenza di un frammento o di un manico di secchio del menisco che interferisce con il movimento stesso. Quindi spesso nella lesione acuta il paziente si trova con un blocco meniscale, cioè con un ginocchio che non riesce a estendere completamente e non riesce più a flettere completamente. Ma si può fare a meno dei menischi? Ed è più grave perdere il menisco esterno o quello interno? Entrambi i menischi hanno un ruolo molto importante per preservare l'articolazione, quindi è sempre meglio curare il menisco piuttosto che toglierlo. E questo è stato dimostrato fin da quando abbiamo incominciato a togliere i menischi e anche quando abbiamo incominciato a togliere i menischi artroscopicamente. Le prime artroscopie meniscali sono state fatte più o meno nella fine degli anni 50, quando sono nato io, in Giappone. E si è dimostrato poi negli anni che anche le aggressioni minime del menisco, le regolarizzazioni cosiddette, sono foriere di problemi per l'articolazione stessa, perché l'articolazione perde la sua integrità biomeccanica. Quindi dei menischi si cerca sempre di non fare a meno, nei limiti del possibile. Ovviamente a volte questo non si può fare e quindi si va incontro comunque a dei problemi nel tempo. Il menisco esterno è sempre stato dimostrato negli anni essere più delicato e più rilevante dal punto di vista cinematico, quindi assorbe di più gli shock ed è più importante perché quando manca all'esterno il fenomeno artrosico che ne deriva è più grave di quando manca il menisco interno. Quindi una lesione meniscale esterna è più importante, più rilevante dal punto di vista clinico. Ecco, ma se il menisco si rompe si può aggiustare? Il menisco si può sotturare nella misura in cui ha una lesione fresca o il resto della struttura meniscale è abbastanza sano. Certamente una struttura meniscale deve essere fatta in maniera corretta e anche il posto operatorio deve essere fatto in maniera corretta. Il paziente deve stare a riposo per un certo periodo, deve permettere al menisco di guarire e soprattutto la lesione deve essere in una zona meniscale dove c'è una minima vascolarizzazione. Le zone più periferiche del menisco, che sono quelle poi più centrali verso il centro dell'articolazione, sono delle zone che tendenzialmente non guariscono. E qual è la prognosi della struttura? Ossia la struttura meniscale dà sempre dei buoni risultati? Se il menisco ha delle caratteristiche biologiche buone e la lesione è acuta, la struttura meniscale dà dei buoni risultati perché il paziente tendenzialmente guarisce progressivamente. Certamente la lesione meniscale, soprattutto in quelle acute, può essere dovuta non solo a un problema meniscale puro, ma anche a un'instabilità dell'articolazione. È tipico l'esempio di un calciatore di 15, 16, 20 anni che rompe il crociato anteriore e poi progressivamente si provoca una lesione a manico di secchio del menisco interno. Questa lesione è causata non dal menisco stesso o da una distorsione particolare, ma dall'instabilità che il paziente ha. E quindi questa instabilità causa un movimento anomalo che va a pizzicare il menisco e lo distrugge. Certamente anche un paziente che sta tantissimo tempo in ginocchio, come per esempio un palchettista, un piastrellista, un idraulico, e continua a sovraccaricare il menisco che si è rotto in una fase acuta, sto pensando anche per esempio a un istruttore di yoga che io ho sotturato, quando tornavo a fare determinati movimenti in eccessivo stress e quello ha poi causato una recidiva della lesione. Quindi è vero, non tutte le lesioni meniscali sotturate guariscono, molte di esse sì, vale assolutamente la pena di provare a ricostruire, specialmente nell'individuo più giovane, perché il menisco è indispensabile. Ecco, ma come si può trattare un paziente a cui è stato levato un menisco o una parte di esso? Ci sono due tipi di trattamenti per i deficit meniscali. Se il deficit meniscale è piccolo, si possono usare dei materiali, che noi chiamiamo scaffold, che si sotturano sulle zone di deficit meniscale. Più spesso, quando la lesione è completa, quindi più importante, quindi più grave, si usano proprio dei veri e propri trapianti di menisco da banca dei tessuti, che sono, diciamo, dei trapianti da cadavere sostanzialmente, e che vengono posizionati esattamente nel posto in cui c'è il menisco nativo e hanno la forma e la dimensione del menisco nativo. E quali sono i soggetti più colpiti dalle lesioni acute e anche da quelle croniche? Beh, i pazienti che hanno delle instabilità, come dicevamo prima, sono dei pazienti che più facilmente pizzicheranno il menisco durante il movimento. I pazienti che hanno delle patologie croniche, che hanno dei problemi, delle collagenopatie o del diabete o altre malattie, diciamo, di tipo vascolare, hanno dei menischi che, come tutto il resto dell'organismo, sono in difficoltà dal punto di vista vascolare, quindi sono meno capaci di mantenere la loro struttura valida. Quindi nel tempo, progressivamente, questi menischi possono andare incontro a una forma degenerativa. E quali sono le cose da fare in caso di lesione meniscale acuta? La lesione meniscale acuta è una situazione che deve essere affrontata in maniera acuta e quindi il paziente deve essere immobilizzato. Non bisogna forzare, non sapendo giustamente come fare, perché non essendo dei professionisti bisogna mettere il menisco e il ginocchio nella posizione meno dolente possibile, tenerlo fermo, mettere il ghiaccio, immobilizzarlo e poi approfondire la diagnostica in modo da arrivare a una diagnosi rapida e a un trattamento rapido. È ovvio che se c'è una lesione acuta sulla quale il paziente cammina per giorni e giorni e cerca di riprendere a muovere, eccetera, questa lesione acuta può diventare poi una lesione con un danno così grave e che non è poi più sotturabile. Ecco, a proposito di diagnostica, come si diagnostica una lesione al menisco? Beh, il gold standard è la risonanza magnetica nucleare. La risonanza magnetica nucleare può essere fatta con una alta o una bassa risoluzione. Quella ad alta risoluzione consente di evidenziare anche delle lesioni più piccole. Quella, per esempio, di cui parlavamo prima, dell'estrusione meniscale, è una lesione che avviene sul piede del menisco anteriore o posteriore, il menisco si stacca, non fa più da elastico, viene bloccato e spinto fuori. Quella lesione lì, nelle fasi iniziali, deve essere documentata con una risonanza ad alta risoluzione, altrimenti non si vede. Quindi la risonanza magnetica sì, nelle forme, diciamo, più semplici è possibile utilizzare anche una risonanza a bassa risoluzione, ma molto spesso è necessario poi usare le macchine grandi, quelle con una risoluzione maggiore. E l'intervento è sempre necessario? Da quando abbiamo incominciato a fare le regolarizzazioni meniscali artroscopiche, abbiamo capito che potevamo fare meno danni rispetto a togliere il menisco in toto, facendo un'incisione vera, cielo aperto, quindi artroscopicamente si pensava di poter trattare tutte le lesioni meniscali, anche quelle degenerative, anche quelle del paziente con una certa forma di artrosi, ottenendo dei buoni risultati. Nel 2016 c'è stato questo consensus delle società, diciamo, ortopediche, per trattare appunto i problemi meniscali, che hanno dimostrato chiaramente, con una serie di studi, che le lesioni meniscali degenerative, oltre un certo limite, non hanno nessun vantaggio nel trattamento, neanche nel trattamento di minima, neanche in quello artroscopico, in cui si toglie una piccolissima parte del menisco. Questi tipi di trattamenti non sono consigliati, è sempre meglio cercare di trovare delle soluzioni, diciamo, rigenerative, o delle soluzioni, diciamo, medico-alternative, come la fisioterapia, piuttosto che aggredire un menisco degenerato in un ginocchio che sta andando verso una forma di artrosi. Ecco, dopo l'intervento, quali sono i tempi di ripresa? Ed occorre fare fisioterapia o qualche cosa di simile? Beh, quelli più vecchi di noi si ricorderanno che a un certo punto, prima di un'importante partita dei mondiali, un famoso giocatore è stato operato al menisco artroscopicamente e subito dopo è riuscito a giocare, a vincere anche una partita piuttosto importante. Però questo non è sempre il caso. Se noi abbiamo un ginocchio con un menisco estruso, per esempio, o con una lesione meniscale a manico di secchio, quelle lesioni che devono essere sotturate o che devono essere trattate in maniera particolare, ecco, i tempi per la ripresa sono molto più lunghi. Si tratta di 20 giorni con stampelle, poi carico progressivo, dipende dal tipo di lesione. Alcune delle lesioni sono delle lesioni che possono essere trattate e, diciamo, con la speranza di ottenere un recupero funzionale molto rapido. Altre lesioni richiedono dei tempi più lunghi. Ovviamente è sempre una questione di collaborazione tra il medico e il paziente, di fiducia nel medico e nell'operatore e quindi nel fatto di concedere a questa struttura, di ricostruirsi e di guarire, per quanto può, aiutata dal gesto chirurgico. Ecco, l'ultima domanda. Ci può spiegare in che cosa consiste l'artroscopia di ginocchio? L'artroscopia di ginocchio è un intervento semplice, che viene fatto rutinariamente, quindi c'è una grossa casistica, gli operatori sono sempre molto bravi, chi fa artroscopia di ginocchio ne fa moltissime e dopo aver bloccato la circolazione per non far sanguinare l'interno del ginocchio, si fanno due accessi, uno dalla parte interna del tendine rotulio, l'altro dalla parte esterna, uno dei due accessi ha una telecamera interna che vede quello che succede e l'altro dei due accessi è l'accesso funzionale con cui l'operatore fa le cose che deve fare. A volte è indispensabile, nelle lesioni più complesse, o per esempio, penso al trapianto meniscale, fare molti accessi, anche un accesso posteriore, interno o esterno per ricostruire il menisco stesso, ma il più delle volte è sufficiente fare due piccoli accessi anteriori. È ovvio che questi accessi dopo l'intervento chirurgico, che dura in genere 20-30 minuti, a volte anche di più se il gesto chirurgico è più complesso, bisognerà preservarli e cercare di non stressare le ferite flettendo troppo il ginocchio nei primi giorni del post-operatore. E con un'ultimissima domanda, che tipo di anestesia occorre per questo tipo di intervento? Spesso è possibile fare anche delle anestesie locali, per lo più si fanno delle anestesie spinali, perché permettono di utilizzare una quantità minima di anestetico, di avere un tempo molto lungo di operatività sul paziente e con problemi minimi legati a questo tipo di anestesia. Quindi si sceglie o quello, oppure si possono fare anche dei blocchi periferici. Questo dipende da quello che decide poi il paziente di fare col suo anestesista. Grazie mille. Prego. Grazie mille.